Ciao amici di TuttoMotori e bentrovati da Marco Guidotti e dall'organizzata Opel di Modena Renault Star, vendita e assistenza Opel per Modena e vendita di auto usate chilometri zero di tutte le marche. Oggi infatti volevamo proprio parlare con voi delle ALD Select, cioè le auto usate di provenienza ex noleggio che noi trattiamo in esclusiva per la zona di Modena. Seguitemi ne vediamo qualche esempio e vi spiego un po' meglio di che cosa si tratta. Le ALD Select sono una selezione di tutte le auto che rientrano dal noleggio dell'ALD Automotive, una compagnia di noleggio a lungo termine di respiro internazionale. Di tutte le auto che rientrano, le migliori, cioè quelle che hanno meno danni, meno chilometri e che sono in migliori condizioni, vengono veicolate su centri come il nostro. Sono auto che vengono vendute con garanzie di due anni, con IVA esposta e con una certificazione di DECA di stato d'uso e chilometraggio. Le auto ALD Select, come vi dicevo, sono le migliori auto che rientrano dal noleggio a lungo termine, quindi hanno avuto sostanzialmente un unico utilizzatore o poco più. Sono state trattate come se fossero auto private. Hanno avuto tutte manutenzioni regolari perché compresa il contratto di noleggio. La certificazione DECA ci mette al sicuro di eventuali imprevisti. Se volete vedere le caratteristiche e quante auto sono, quali sono e cercare quella che fa per voi, potete venire sul nostro sito www.renostar.it. Tutte le auto vengono caricate in tempo reale con foto, caratteristiche e prezzo. Tutte le ALD Select godono inoltre di soluzioni finanziarie personalizzate grazie ad una convenzione tra ALD e una nuova società finanziaria. Chiedete ai nostri venditori, faranno un preventivo personalizzato sulle basi delle vostre necessità. Bene amici di Tuttomotori, da Marco Guidotti e dalla Opel Renostar vi aspettiamo nei nostri saloni per vedere e toccare con mano sia le Opel nuove che le auto usate LD Select. Se non potete venire o se preferite fare da casa ricordate il nostro sito internet www.renostar.it. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!